Testa di serie numero 8 qui a Torino fa il suo debutto all'edito ATV Finals dalla Danimarca Jorge Russe! Testa di serie numero 6 qui a Torino vincitore dell'edito ATP Finals 2019 dalla Grecia! Stéphano Fritipas! Bravo Stéphano! Stéphano Fritipas! Testa di serie numero 5! Stéphano Fritipas! Stéphano Fritipas! Stéphano Fritipas! Stéphano Fritipas! Stéphano Fritipas! Stéphano Fritipas! Grazie. Continuando. Lo spettacolo però continua con un match amichevole tra i due sostituti, Hubert Urkacz e Taylor Frizz. Il controllo che inizierà tra breve.